La Cia Roma in questi anni si è battuta per difendere i diritti dei suoi associati, coinvolgendoli in iniziative di sviluppo dell'organizzazione, chiamandoli in causa al momento di salvaguardare i diritti e difenderli dalle avversità. Le battaglie per il prezzo del latte, per l'incremento delle risorse, il reperimento di fondi e l'accelerazione degli iter burocratici sono stati i punti rilevanti dell'associazione che a Roma e provincia conta più di 7.000 iscritti. Un sodalizio che è sinonimo di creatività, forza e coraggio, ma anche di progresso e nuove sfide. Quelle sfide che la Cia Roma, quando c'è da scendere in piazza, sa difenderle vincendole. Ecco, oggi la Cia Roma è un punto di riferimento per agricoltori e produttori, un'unica entità che rappresenta il futuro dell'agroalimentare a Roma e provincia.